La ricetta per il vostro brunch è... Crepe con granchio e mascarpone. Per il ripieno, mettete la polpa di granchio in una ciotola. Unite il mascarpone, la scorza e il succo di un limone, erba a cipollina tritata e peperoncino di Cayenna. Mescolate e mettete da parte. Per la pastella, unite farina, sale, un uovo e latte e mischiate fino a ottenere un composto omogeneo. Mettete l'olio in una padella antiaderente e versate un mestolino di pastella muovendo la padella per distribuire il composto uniformemente. Quando un lato sarà dorato, girate e cuocete. Mettete al centro della crepe un cucchiaio del ripieno e arrotolatela. Guarnite con erba cipollina e divoratela. Crepe con granchio e mascarpone. Un piatto ottimo, semplice e pronto in pochi minuti. Apflichtei. Aplicio. Compréstimo. La graficio. Aplicio. Grazie a tutti.